Per il sesto chakra, quindi il terzo occhio, ho scelto un ametista. Allora, ha un ampio spettro di energie risanatrici. È una delle pietre più utili alla meditazione. Esalta la capacità introspettiva, rivelando saggezza interiore. Equilibra il corpo nelle alterazioni del sonno. Attenua dolori e tensioni collegate alle emicranie. Come dicevamo prima, armonizza sia il sesto chakra, quindi il terzo occhio, sia il settimo chakra, che è il chakra della corona, che si trova proprio sulla parte superiore del capo. È un cristallo sacro, lo spirito guida l'arcangelo Zadkiel, è una pietra micca e dà calma.